La storia di Marco Pantani è veramente drammatica, è la storia di un ciclista che non sembra all'inizio avere le doti, le qualità per diventare un campionissimo come Coppi, come Bartali, neanche come Gimondi e che ci mette però una tale passione, un tale impegno che conquista il cuore degli appassionati di ciclismo e non solo quelli, perché il ciclismo ha poi un fascino che prende un po' tutto il popolo italiano. Vince qualche gara ma non è un campionissimo, a un certo punto diventa un grande, vince il Giro d'Italia, poi vince il Tour de France, l'equipe intitola dopo una vittoria di una tappa in montagna Cetanjean, è un gigante, Pantani diventa un eroe nazionale, poi viene beccato positivo al controllo antidoping, anzi non si tratta di doping, si tratta di un ematocrito troppo alto, viene squalificato, lì comincia il suo calvario e Pantani non si riprenderà mai più da questa sconfitta che è più di immagine che di sostanza. Nel mondo del ciclismo sappiamo che il doping purtroppo c'è, sappiamo che molti cercano di aumentare le proprie prestazioni con vari sistema che sono più o meno sul filo della regolarità. Pantani è stato sfortunato, forse anche perseguitato, forse è stato anche il bersaglio di qualcuno che voleva dare un segnale. Non si riprende più, finisce nella depressione, finisce con i farmaci fino a una morte triste e solitaria in un residence della sua Romagna. Che cosa ci insegna purtroppo la storia di Pantani? Che perdere il successo è molto peggio che non raggiungerlo mai. Pantani ha lottato tanto per raggiungerlo, l'ha conquistato e la caduta gli è stata fatale. È una storia che ci sollecita, ci stimola tutti ad avere una grande misericordia nei confronti di Marco Pantani, un grande affetto, ma anche a cercare di parametrarci tutti noi su quanto può essere importante nella nostra vita l'inseguire il successo. Grazie a tutti.